L'ex Geffina si confessa nella trasmissione Illumnatici.Alcune ore fa Daniela Martani è intervenuta ai Lunatici la trasmissione radiofonica di Radio 2 Rai L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato molto dell'attuale vice premier leghista Matteo Salvini usando, anche se in modo ironico, dei termini abbastanza forti Nel programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la Martani, vegana canita, ha affermato che il ministro dell'interno si è notevolmente ingrassato come un maiale Daniela Martani è la critica a Matteo Salvini. Si è ingrassato, sta diventando un maiale, sta diventando obeso Mangia carne dalla mattina alla sera, gli consiglierei di farsi le analisi perché tra qualche anno potrebbe arrivargli una bella mazzata Ha affermato Daniela Martani ai Lunatici. Quest'ultima, inoltre, ha detto di averlo avvertito, ma visto che non l'ha ascoltata, non gli consiglierà più nulla L'Apostrofo X Jeffina non si preoccupa della salute dell'ex compagno di Elisa Isoardi, ma perché lui è un promotore della caccia e degli allevamenti Daniela Martani e il suo menù vegano di Capodanno.Nel corso della lunga chiacchierata sul programma In Onda su Radio 2 Rai, Daniela Martani ha detto basta cotechino e zampone per il cenone di Capodanno La donna consiglia un menù esclusivamente vegano. Quindi, cannoncini vegan con crema di broccoli e pomodori secchi, formaggio di anacardi con mirtilli rossi e semi di zucca, tagliatelle tricolore con ragù di cece e funghi, oppure si possono fare delle pappardelle con sugo di radicchio, fichi e seitan Ovviamente l'ex Jeffina ha precisato che la pasta deve essere fatta rigorosamente senza uova Infine la Daniela ha lanciato un disperato appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella In Giappone è successa una cosa molto grave. Hanno lasciato un accordo internazionale per riprendere la caccia alle balene Vorrei dire ai giapponesi che hanno rotto le scatole Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like